Ciao, in questo video ti do un parere sullo strumento per creare l'ending page con Builderall, ma prima permettimi di presentarmi. Ciao, sono Mirko Galassi di webandjoy.net e manipator.com e opero nel campo del digital da 20 anni, negli ultimi 10 come imprenditore e nei precedenti 10 come tecnico. Ho avuto modo di lavorare su piccoli e grandi progetti per una moltitudine di realtà e in questo canale ti riporto errori e successi miei e dei miei clienti. E oggi ti parlo di... Oggi parliamo di Città Builder Pixel, una funzionalità beta del pacchetto Builderall. Se non conosci Builderall avrebbe più senso che guardassi il mio video di presentazione di questa suite di strumenti. Trovi il link nella sezione qui sotto. Builderall è una piattaforma online che racchiude davvero tantissimi strumenti per lo sviluppo e la promozione della tua attività sul web. Tra questi prodotti puoi trovare Città Builder Pixel, uno strumento per creare l'ending page e funnel di vendita. Devo dirti che questo strumento mi è piaciuto molto, anche se lo reputo meno performante rispetto a Landing G, il software che utilizzo a livello professionale per creare fantastiche l'ending page e che puoi provare gratuitamente usando il link che trovi qui sotto. Reputo però, Città Builder Pixel, uno strumento estremamente valido. Sicuramente per tutte quelle piccole attività che vogliono avere uno strumento economico e performante potrebbe essere la soluzione ideale, anche perché viene fornito a livello gratuito attraverso Builderall. Infatti a differenza di molti colleghi che propongono Elementor, io questo software lo reputo un po' complesso, dispersivo e anche lento, mentre Città Builder Pixel è estremamente veloce. Quando realizzo una landing page, infatti, ho bisogno di lavorare in velocità e non voglio rotture. Ecco perché la versione di Città Builder o di Landing G fanno al caso mio. È interessante notare che l'elemento iconografico che contraddistingue questo strumento è il ghepardo. Il ghepardo è l'animale più veloce sulla Terra, escludendo ovviamente i volatili che sono del regno del cielo. Vediamo subito come funziona Città Builder Pixel. Allora, come potete vedere è abbastanza veloce e poi ovviamente dipende anche dalla mia connessione. Posso creare un nuovo sito, partire da un template vuoto oppure selezionare un template esistente. Intanto definiamo qual è il nome del progetto, quindi ad esempio metto test, tanto così, progetto di test. Tanto per poter andare a fare una prova, insomma. E poi vado a selezionare template. Come puoi vedere ce ne sono una marea, ce ne sono tantissimi. E possiamo andare a vederli per quelli nuovi, nuovi arrivati, o per altre diciamo tipologie. Quindi in questo caso vediamo i funnel o i funnel di business. Ci sono tante, veramente tantissime opzioni. Per fare coaching, per fare, per le agency, per, vediamo, per il marketing. Troviamo moltissime possibilità, landing page, eccetera, eccetera. E per il fitness, anche con gli integratori. E come puoi notare ci sono anche diverse tipologie, no, di fasi del funnel. Per cui abbiamo, possiamo partire da una squeeze page, piuttosto che da una video squeeze page, piuttosto che da una pagina con un lead magnet, piuttosto che altre formule come quella che potrebbe essere una bridge page, ovvero una pagina dove andiamo a definire quelli che sono i contenuti che troveranno, ad esempio, nell'area riservata, o una thank you page, eccetera, eccetera. Ora, io non partirei, in questo caso, da un template già pronto, ma partirei da una pagina, che è una pagina vuota che facciamo noi per il caso. Quindi, parto appunto da pagina vuota, anzi da progetto vuoto, e qui inizio a definire quelle che saranno le mie varie pagine. Quindi, ad esempio, questa potrebbe essere una landing per un mio prodotto specifico. Allora, salviamo ed entriamo dentro. Questo richiede un attimo di tempo per caricare tutti gli elementi che sono necessari. Questo anche landing G lo fa. Devo essere sincero, questa suite è anche più veloce nel caricamento di tutti quelli che sono gli oggetti. e sulla parte di destra troviamo, iniziamo a trovare quelle che sono le, diciamo, le informazioni, per cui abbiamo la possibilità di aggiungere un pannello oppure degli elementi, mentre qui abbiamo la parte di impostazioni e personale che non abbiamo ancora nulla, ok? Qui abbiamo praticamente degli elementi che possiamo salvarci. Allora, che cos'è un pannello? Un pannello è un elemento, un blocco già pronto, ok? Che serve per determinate, diciamo, un elemento non di template, ma un blocco già pronto che possiamo introdurre in maniera veloce e poi andare a modificare all'interno della nostra pagina. Per cui, come vedi, c'è anche qui il mondo, no? Possiamo, a seconda di quello che ci serve fare, se è una thank you page, possiamo mettere un determinato elemento, mentre se è una pagina di vendita, possiamo mettere altri elementi. Allora, tanto per vedere, ad esempio, qui abbiamo leader, e possiamo capire come si può fare un leader, quindi si riporta diverse opzioni di menu. Oppure ancora, supponendo che noi vogliamo fare una landing page, possiamo scegliere quale tipo di landing page fare basandoci appunto su quello che abbiamo in mente. Per cui, in questo caso, se volessimo fare un lead magnet piuttosto che una squeeze page per andare a prendere dei contatti, potremmo utilizzare questo modello che poi andiamo a modificare. Ma ce ne sono veramente tanti, ok? Quindi, una volta che abbiamo scelto il nostro modello, te li faccio vedere, in velocità sono veramente tantissimi, ci clicco sopra e a questo punto viene caricato il modello per noi. E qui abbiamo la possibilità di andare a fare le modifiche. Se hai visto il mio corso gratuito su Landing G, ti accorgerai che l'utilizzo è identico. Ed è un utilizzo, a mio avviso, migliore di quello che puoi avere con un ClickFunnel piuttosto che con un Elementor. Che sono entrambi due strumenti, due software, vorrei dire popolari, ma comunque anche ben conosciuti, ma hanno tutti e due, a mio avviso, degli svantaggi che in qualche modo mi hanno bloccato dall'usarli. Ad esempio, ClickFunnel, al di là del costo, che insomma è anche importante perché costa 2,97 al mese se vogliamo avere una versione che ci permette di essere, diciamo, senza limiti, ha un grandissimo vantaggio di essere uno strumento per poter vendere. E quindi veramente grande potenzialità. Però è non subito veloce, non subito intuitivo. A volte ci sono degli elementi che non funzionano bene, delle integrazioni che a mio avviso non funzionano al massimo. Elementor invece è super complesso, nel senso che hai un pannello con tantissime opzioni, questo rende un po' lento a lavorarci, e quindi per creare una pagina ci metto delle giornate. Non posso permettermi di metterci delle giornate, ho bisogno di metterci poco tempo e fare delle cose che siano belle, veloci, che si carichino velocemente, cosa che spesso Elementor non mi permette di fare, anche perché poi quello dipende tantissimo dal server su cui sono, mentre in questo caso Builderall mi fornisce tutto, mi fornisce anche il server. Allora, vediamo come si possono fare delle veloci modifiche, senza andare a stravolgere la pagina, perché poi magari potresti andare tu stesso a provare il tool, con il link che trovi qui sotto, e giocarci un po'. Allora, come vedi, basta cliccare sopra gli elementi e qui hai la possibilità non solo di ingrandirli, spostarli, perché li possiamo anche spostare tutta in qualità di riga, ma addirittura muoverli all'interno della pagina. Questo rende questi strumenti, il cita Builder Pixel, piuttosto che Landing G, a mio avviso gli danno una marcia in più rispetto a tutti gli altri editor. Quindi qua gli posso mettere il mio supertitolo. Ok, come vedi va a capo, perché appunto ci sono delle dimensioni che poi possiamo andare a modificare da questa parte, dove cliccando sopra vengono fuori impostazioni generali e qui vediamo la larghezza, a cui vogliamo dare questo pannello. Quindi in questo caso possiamo cambiare le impostazioni del nostro pannellino. e vediamo, possiamo cambiare il colore del bottone. Clicchiamo qui, adesso abbiamo caricato il bottone, vedi si chiama tasto e qui abbiamo la possibilità di andare a fare tutte le modifiche, quindi andare a lavorare sia sul testo, quindi clicca qui ad esempio, sia sugli altri elementi come il bordo, come l'ombra, ad esempio vediamo l'ombra come messa, possiamo incaricarci un'ombra scura e poi darsi un po' di raggio di sfocatura. ecco è fatta esageratamente grande ecco e possiamo cambiarci ovviamente anche il colore ora come vedi possiamo anche applicare delle sfumature in questo caso farei così e l'altro lo facciamo così oppure possiamo mettersi anche un'immagine quindi insomma tanti giochini che possiamo fare i testi si possono modificare nello stesso modo in cui ti ho fatto vedere prima quindi anche queste parti si modificano nello stesso identico modo il pannello come puoi vedere lo possiamo aumentare, diminuire, allargare come più ci va bene e poi ovviamente ogni volta che andiamo su modifica elemento dobbiamo avere qui il nostro pannello aperto in modo tale da poter andare ad agire su quelli che sono gli elementi delle impostazioni di questo elemento ok quindi ad esempio in questo caso sto lavorando su questo pannello e non su altri quindi anche qui posso decidere che l'altezza ha una certa altezza posso metterci i bordi e farci altri tipi di modifiche ora una volta che abbiamo fatto questa prima parte possiamo aggiungere a quello che è il blocco degli altri elementi ad esempio come vedi possiamo aggiungere dei testi degli elementi animati degli accordion cioè ovvero qui è il menu a fisarmonica un modulo per l'email marketing veramente hai moltissime possibilità diciamo che noi vogliamo aggiungere un altro pannellino quindi cosa faccio vado indietro e a questo punto potremo mettere un blocco di testo per andare a descrivere quelle che sono quello che è diciamo l'introduzione del mio copy per poter poi andare a diciamo rafforzare la possibilità che un qualcuno mi lasci i suoi dati attraverso il modulo quindi andiamo a vedere contenuti dove sono eccoli qua tac clicco e posso scegliere come fare i contenuti se in una colonna sola su più colonne su una colonna che contiene già una call to action e via dicendo ad esempio prendiamo questa eccoci qua abbiamo già creato la nostra call to action possiamo farsi le nostre modifiche e via dicendo supponendo che questo testo sia posto a questo punto potremo anche definire che abbiamo bisogno di un footer quindi andiamo a prenderci l'elemento footer quindi prendiamo l'elemento footer quello che più a nostro avviso può andare bene clicco sopra in questo caso ho trascinato perché ero abituato con landing g quindi ho fatto questo errore e ho aggiunto per errore infatti due volte il blocco allora cosa faccio ne elimino uno semplicemente basta cliccare sopra il cestino e confermare che il blocco deve essere eliminato ora nota che quando puoi farsi delle modifiche questo blocco ad esempio decido che questo elemento non lo voglio e che quindi anche questo non lo voglio e posso lasciarlo così una volta che ho cambiato il mio modulo posso andare a salvarlo come un elemento che poi utilizzerò ancora ok quindi ho salvato questo elemento e avrò la possibilità di riutilizzarlo in seguito una volta che ho fatto tutte le modifiche come vedi la pagina l'abbiamo costruita in maniera molto veloce salvo e a questo punto do l'ok dovrò poi uscire da questa parte e poi andare a e poi andare a pubblicare il tutto quindi ritorniamo nella parte di pubblicazione ok chiudiamo salvo esci confermo e poi a questo punto faccio pubblica do l'ok e adesso posso anche andare a vedere online questa è la pagina online ok posso anche fare eventuali prove per vedere come diciamo appare in versione mobile perfetto già in automatico senza dover fare altre modifiche e direi che quindi è veramente molto 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 soddisfacente questo questo tool è veramente figo è Grazie.